In risposta alla crescente necessità di posti letto per affetti da coronavirus anche nella Torre della Medicina è iniziata la riconversione dei posti letto. I nostri intelligenti affetti da patologie internistiche cosiddette ordinarie sono state naturalmente in parte dimessi e in buona parte trasferiti presso il privato accreditato del territorio. La cosa che più ha stupito sono stati i gesti di considerazione dei desegenti stessi che hanno capito quanto grave sia la situazione hanno espresso la loro solidarietà aderendo completamente alle nostre proposte di missione che comunque vogliamo garantire sono avvenute in assoluta sicurezza. Un grosso ringraziamento e un plauso va al personale tutto, os infermieri, medici i quali hanno capito che la situazione naturalmente si è resi disponibile in modo per me commovente ad aderire a turni massacranti in condizioni veramente difficili e trovandosi ad operare in situazioni anche di stress psicologico non indifferente. per cui un grosso grazie collettivo a tutti coloro che lavorano con noi. Noi vorremmo anche poter ringraziare i cittadini tutti che tra l'altro continuano a chiedere come poterci aiutare. Io rispondo sempre nell'unico modo che mi sorge spontaneo che è quello di non ammalarvi. Per non ammalarvi dovete stare in casa, dovete evitare di assembrarvi, dovete uscire il meno possibile e mascherati. Una cosa ineccepibile ma da fare totalmente. E un giorno torneremo sicuramente ad abbracciarci. E un giorno torneremo sicuramente ad abbracciarci.